si mi punti il videoregistrator allora mi parte qualcosa da mangiare al volo per cominciare l'episodio prendi fuori il videoregistratore vai a cercare tra le cassette quella che ho scritto cimavue 96 papà e la mia recita ero era la materna si la sovrascrivi tanto ce ne abbiamo anche quella del 97 98 forse anche del 99 questa sera importante perché c'è l'episodio dopo se qui non va la tv lei è una vecchia di merda salta lungo i fossi lei è una vecchia di merda che si monterebbe i morti lei è una vecchia di merda che cucina senza sale che dopo intrighi amori e corna non si fa ciullare si accomodi si accomodi mi scusi io cercavo il redattore il redattore esploso come hai fatto poi a uscirne lì da quel bordello però non arrampicandoti sugli specchi come fai di solito signora è il perito del tribunale mi ha detto che aveva bisogno di questa qui questa qui è una brutta macchia d'olio vedi e poi ce ne sono lì anche lì e lungo tutta questa linea qua avanti sì ho visto che c'è dell'olio signora ma mi permettimi io sto pensando se la mia macchina perdeva dell'olio no di fatto posso essere scagionata perché magari non davano neanche i freni no no signora la fermo subito cioè investire sei persone un cane no signora anche il cane tirato sotto cioè non è che aver poco olio la scagiona del fatto che non ha visto sei persone un cane ma porca le ceneri del cane set dove le abbiamo messo non lo so avevi una vanga in mano l'altro giorno no ti giuro le ho messe in quello dei bis no in quello dei biscotti no santa pace jessica dai per favore non farmi fare quello ti giuro non me lo ricordo sì ho capito ma cioè è una cosa importante sì perché vabbè sette ascolta ti devo parlare è un po che la nostra storia tira avanti ma non tira più insomma cioè voglio dire cioè è una storia che non so come dirtelo sei certo che comunque sei strana sai jessica perché comunque alla sera coccoline via grino sì però non tu devi capire io ho bisogno ho bisogno di carne giovane sette ho bisogno di di nuove esperienze ecco ma chi ma chi vuoi che ti piglia te jessica dai sei un rottame a pedali mentre invece con me bali la salsa tutte le sere ecco sai dove cazzo l'ho messo nelle bustine del tè porca sei gaioli buonasera scusi lei chi sarebbe io sono io sono l'organizzatore di questa umile fisticciola per scambisti fisticciola per scambisti ma vaffanculo già si qua si scambiano coppie 1 2 3 4 5 insomma fate quello che volete arrivederci buonasera no 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 jessica io me ne vado no io me ne vado me ne vado stai seduto per favore siamo qui per parlare con il ragazzo della nostra relazione aperta ma che vuoi è una roba come quando ti hanno occupato la piscina vuoi saperlo un segreto mi hanno occupato la piscina ieri sera cioè è partito tutto da insomma mi stavo facendo un frullato no al melograno e niente sentivo una musica venire da lontano ho detto ma sarà quel coglione di gerry hai presente no chi è gerry gerry il tuo vicino è proprio quello lì che fume viuse beh comunque c'è praticamente tutti col cazzo in mano nel mio cortile in piscina una vigliaccheria la merda e poi c'è la macchina che non prende i shoti non prende ma fa un culo e poi c'è la macchina che non prende i shoti e poi c'è la macchina che non prende i soldi e poi c'è la macchina che non prende i soldi ma prende se non si può fare niente venite lo sigilate lo chiudete siamo a parto se non si può fare niente venite lo sigilate lo chiudete siamo a parto se non si può fare niente venite lo sigilate lo chiudete siamo a parto oh gerry ma quindi relazione aperta ma anche zenz allora praticamente facciamo così tu stai sopra lui sta sotto e io io vi faccio la femmina ma per favore jessica neanche morto no 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 questo qua c'è un'anacomba al posto del pisello io c'ho il culetto che è ancora verginello eh ragazzi ancora verginello forse è soluzione a manuel è che tu prendi solo pisello in tuo culo non dai ma neanche morto neanche così ciao piccolino iscriviti al canale